Tre spacciatori, due italiani ed un marrochino ed il loro grossista arrestati sul fatto. Un etto e mezzo di cocaina e 4.000 euro in contanti sequestrati. E questo il bilancio della vasta e prolungata azione repressiva attuata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fano, con il supporto delle stazioni di Fossombrone e Fano. Il primo arresto è scattato ad agosto scorso. A finire in manette era stato un quarantenne originario di Fossombrone, già attivo nella ristorazione ed ora agente di vendita di macchine in quel di Pesaro. I carabinieri del nucleo operativo di Fano, coadiuvati dai colleghi della stazione di Fossombrone, che ben conoscevano i suoi trascorsi, dopo prolungati appostamenti lo hanno beccato a Piazza Rossini di Pesaro mentre spacciava alcune dosi di cocaina ad un noto commerciante, anche lui originario di Fossombrone. Seguendo un'indagine di tipo tradizionale, i carabinieri di Fano e Fossombrone sono arrivati ad identificare il grossista, che è stato seguito per giorni e giorni nei suoi spostamenti in giro per Umbria e Romagna, e più da vicino attorno anche alla sua dimora, nella Valle del Metauro. Ieri pomeriggio, quando è stato visto salire a casa sua una cinquantenne fanese, noto ai carabinieri, operante per i suoi trascorsi nel mondo dello spaccio all'ingrosso dell'Ascish, gli è bastato poco per capire i motivi di quella breve trasferta. Fermato poi così da un equipaggio dei carabinieri di Fano, è stato trovato in possesso di un involucro sottovuoto, che conteneva circa 40 grammi di cocaina, che le prime analisi hanno rilevato essere di ottima qualità. La successiva perquisizione nella sua abitazione di Fano ha permesso di recuperare circa 2.000 euro in contanti, un bilancino di precisione e due piante di marijuana. Poco dopo, ecco che a salire a casa del grossista è stato un marocchino cinquantenne da anni, con dimora nel comune della Valle del Metauro. È stato pedinato anch'esso dai militari e quando hanno avuto la certezza che avesse preso la cocaina, è stato anche lui fermato. Infatti aveva addosso 10 grammi di cocaina ancora da tagliare ed un centinaio di euro in banconote di piccolo taglio. I carabinieri in appostamento a quel punto hanno fatto irruzione nell'abitazione e sul tavolo del soggiorno c'era in bella vista un sacchetto aperto con qualche grammo di cocaina. Una perquisizione più approfondita però ha permesso di ritrovare, in un incavo ricavato a doc sotto il lavello della cucina, due involucri sotto vuoto con una quarantina di grammi di cocaina, un bilancino di precisione e un migliaio di euro in contanti. I tre arrestati, dopo le formalità di rito e su disposizione dei PM di Urbino e Pesaro, sono stati così portati nella casa circondariale di Villa Fastigi di Pesaro, dove da agosto scorso si trova in custodia a cautelare il quarantenne arrestato ad agosto e che aveva dato inizio a tutta l'operazione.